c'è un colpo alla moto su e porco di porco eh scusa un cazzo scusa porca trolla ti ha posto? c'è l'assicurazione? no dai io sto bene non credo di essere mai fatto niente per tanto siamo tranquilli dai succede capita a tutti se riesci a far poco poco con la guarda dei mezzo di 30 centimetri così la rialzo e mettiamoci guarda se ci spostiamo vicino ai secchi è vero eh ma vorrei capire che c'ho più che altro non so se conviene con l'assicurazione non so quanto può costare fa una cosa che ti conviene pure a te la macchina che si è fatta? no ultimamente guarda anzi strano che ho ginciato i guanti col giubbotto ti dice insomma anche se è fatto ma sono fatti apposta niente di che non c'ho niente vabbè fortunatamente non mi sono fatto niente di che dai capita a tutti di sbagliare no è un attimo no ma anche due macchine davanti a te stavano a fare la stessa cosa quindi magari ti sei lasciato pure condizionato ovviamente se non ce ne capita a tutti dai su che forse questo qui se si stava con poco più o meno siamo nubbrio speriamo bene eh questa qua ti è crepata proprio questa è Grazie a tutti